Maronna Sand, S.H.I.E.L.D., ti chiamano UBOOF? Ho sonno. È sempre, è sempre sonno. Ti attivi, ti togli la modalità della sorella della ciuccia? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Oggi andremo ad unboxare quello scatolone che sta là sopra, che la nostra valletta gentilmente prenderà. Ok, come possiamo ben vedere, è un bel paccone di Bulk Powders. Adesso, in questo pacco che noi andremo ad aprire, troveremo cose che io so, perché ovviamente non me le hanno mandate, ma le ho coordinate io. Ovviamente questo video adesso si è svegliata, è in compagnia di mia sorella. Oh, come prima cosa vediamo un bel minchia. è enorme, un bel barattolone di... Metti a fuoco? Ok, un bel barattolone di peanut butter crunchy, con i pezzi di marachidi, ne lo mettiamo qua. Poi abbiamo un pacchetto di mezzo chilo di proteine isolate al 90% gusto birthday cake. Poi abbiamo un altro mezzo chilo a pesca e crema. Poi abbiamo un altro mezzo chilo di caramello salato. Un altro mezzo chilo di cioccolato e biscotto. Il pacco è vuoto, può volare via tranquillamente. E adesso le andremo a provare insieme a voi. E' bellissimo come io esco dalle proteine, lei è subendo la testa. Allora, da cosa vogliamo incominciare, signorina Leonora? Io assaggio quello con la pesca. Tu assaggi tutto, non ci scazzi il cazzo. No. Allora, io direi iniziare da birthday cake. Pesca. Birthday cake. Abbiamo il nostro pacco di birthday cake. Allora, dà un odore. Pesca amore. Perfetto. Lei dice che fa cagare e a me piace. Prepariamo i nostri shaker. Qua c'è il misurino da mezzo chilo, ma ovviamente ne proviamo poca. Questo è per te. Questo è per me. Il bulk dobbiamo fare un po' nelle confezioni migliori, eh? No? Alletto. Io l'hanno almeno. Va bene così. As sai. Un momento shakeraggio. Per la felicità di tutti loro. Adesso è finito. Vediamo un po' l'assaggio. È fracoloso. Ho paura. Non mi piace. Fa sciroppo con la lada di un cucchiaino bianco. Che schifo sciroppo. Mamma mia. Allora, cari signori di bulk, non siamo molto d'accordo con la vostra birthday cake. Ovvero... Votiamo le proteine. Un voto da 1 a 5. Da 1 a 5? 0. Perfetto. Da 1 a 5. 0. 1. Sì, da 1 a 5 io do 2 perché voglio essere buono. No, è la nora è il mio piatto. Ti leggo. No, vado... Ti capito sulla scrivania. No, aspetta. Parliamone. Abbiamo appurato che quindi fanno cagare birthday cake bocciato. Lei ha dato 1, io ho dato 2 e sono stato generoso. Caramello salato. Caramello salato. Concordo. Per farvi capire siamo passati direttamente al caramello salato senza pensarci per toglierci questo gusto dalla bocca. Guarda, mangerei anche il burro d'orraga che mi ha fatto essere buona con la bocca. Mi sento proprio se è l'acidino del vomito. Eeeh, ti senti violentata. Mmm, mi ha soddisfatto più di tanto. Tu non mi fa cagare pure questo. No. Ma io, meno peggio. Questo è il meno peggio, sicuro. O almeno spero. Non si vede mai, vabbè. O te la dico la mia? Eh. Questo è buono. Ah, mi piace un sacco questo. Eeeh. Le Alpe Libre. Beh. Le Alpe Libre, le Caramelle, identico. Buonissimo. Queste sono approvate. Voto. Cioè, se prima a quelle ho dato 2, a queste devo dare 5 per forza. A mezzo. Queste sono buone. E non si deve neanche sciacquare. Guardate come solubilità. Perfette. Possiamo procedere direttamente al prossimo. Approvate. Passiamo. Pesca e crema. Pesca e crema. Oppure cioccolato e biscotto. Finiamo con cioccolato e biscotto. Bisogna. No, questa penso sia crema, tipo crema pasticcira. Ma crema non è crema. C'è anche crema. Io credo sia crema. Che c'è. Crema che crema. Crema pasticcira. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Eh sì. Mi sto facendo una chialga. Ho bisogno di qualcosa. Questo sa di plum cake. Per me sì. Il colore è bellissimo. Questo sembra buono. Dai, ci voglio riporre fiducia. Dai, guarda come odore di pesca. Non mi piace. È buonissimo. Mi sa che dobbiamo andare a piedi. Mi ha acceso la pesca. Proviamo sempre a mettere a fuoco. Aspetta, se faccio così... E l'ha messo a fuoco. Ci dobbiamo nascondere. Ed è il frutto o la pesca? Il frutto io lo voglio. Voglio il frutto adesso. Vuoi il frutto o no? No, io assolutamente. E la voglio andare. Assaggia. Dai, io lo so. E la assaggia. La bocca è quasi buona. Vedi, dopo te la giusti con biscotto e caramelo. Aspetta che sia bucchia. Con buc'è la vita, la giusti. Che schifo. Allora. Sono tutti di medicina. Ma scusami, quello è il cioccolato che abbiamo lui, carino e tranquillo. No, no, devi... Ah. Non c'è il test test. Io devo... Ah, ci manca l'acqua. Angela! Grazie. Ah, questo sarà proprio di cameo. Spero, non lo confidiamo in te. Questo è il cioccolato e il biscotto. Siamo pronti? Senti quando ti infilio un dito nel culo e te l'annusi? Davvero cosa di culo? Scusami. Davvero, Ale? Sarà contaminato per sempre. Allora... Tralasciando... Posso dire una cosa? Anche due. Una volta lì. No, non c'è più di una cucchiaia. Lo dite. Ah. Comodo. Tralasciando il fatto che il gusto non era... Non si sentiva tanto perché si sentiva di più il caramello, non è male. Però dobbiamo provarlo senza... La contaminazione. Esattamente. Pulendo per bene gli shaker. Quindi, io direi... Questi gusti come sono? Sono buoni? Non sono buoni? Li consigliate? Non li consigliate? No. Allora, il voto... Che voto abbiamo dato a pesca e crema? Non ci siamo pronunciati. Pronunciamoci. 3, 2, 1... 1. Perfetto. Voto a cioccolato e biscotto? Eh, non lo so. Non si sente. Non ci esponiamo sul cioccolato e biscotto. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente non dimenticatevi di supportarci lasciando un bel mi piace qua sotto. Commentate il video, condividetelo con chi vi pare. Iscrivetevi al canale, siamo quasi arrivati a 100 iscritti ragazzi, da quando ho aperto il canale veramente non ci avrei mai creduto. E invece siamo quasi arrivati a 100 iscritti. Vi lascio il link di Instagram, come al solito il mio, lo trovate sempre in descrizione e su tutti i miei social network, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, ovunque. E il suo lo potete trovare qua sotto in descrizione. Quindi niente ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!